buongiorno buongiorno sempre da matteo barberi in questa questo video cosa andiamo a vedere a quale domanda andiamo a rispondere io ho fatto questa domanda ed è interessante come un'impresa qualunque realtà imprenditoriale deve determinare il proprio prezzo di vendita dei propri prodotti o dei propri servizi questa sarà la domanda di questo video il video guardatelo fino in fondo trovate esattamente come dovrebbe dal mio punto di vista essere determinato il prodotto e prezzo di vendita capita troppo spesso che il prezzo di vendita viene effettuato guardando il proprio vicino di casa e la solo la concorrenza vedo solo la concorrenza e non si fa una semplice una semplice analisi di quello che sono i costi di gestione e che servono per determinare il prezzo vi farò vedere un esempio che è molto interessante come si determinano i prezzi utilizzando quello che è il business di airbnb e quando andiamo a vedere come io devo vendere il mio appartamento la mia casa o qualunque struttura ricettiva e come io determino il prezzo che poi sarà comparato con il costo medio dell'area che in questo caso è la nostra concorrenza andiamo subito a vedere questa cosa condivido un file insieme a voi condividi schermo o per te che arriviamo tac andiamo a condividere andiamo a prendere caffa interno andiamo a togliere nascondi da questa parte andiamo a prendere il nostro foglio di word adesso dovremmo vedere tutti insieme magari mettiamo anche full screen così mettiamo solo la slide andiamo a prendere questo file ora qual è la regola aurea sostanzialmente nella gestione di un'analisi dei costi è il colletto break even point cioè quello questa parola che sembra di essere in un in un come a mcdonald ma in realtà è il punto di pareggio cioè il pareggio dei costi di produzione del nostro prodotto servizio come ho detto utilizzerò un esempio eh che magari calzante ma è più semplice da comprendere proprio la vendita di una eh di una notte di una vostra camera della vostra casa su airbnb bmb importante capire per tutta una regola fondamentale del mondo economico che sono costi fissi costi variabili anche perché so che molti di voi lo sapranno già benissimo a dipende da costi fissi costi variabili ma costi fissi sono costi indipendenti dalle vendite ok vendo zero i costi ce li ho pensate quanti negozi io ho avuto a che fare i tempi addietro quando eh ottenuto qualche corso sui business plan vedete quante persone hanno iniziato un'attività senza sapere i costi fissi cioè suicidio suicidio e oggi è veramente un suicidio o un'anticamera della morte non avere due idee dei costi fissi che la tuo il tuo negozio ha cioè che significa che anche quando la serranda è chiusa i costi ce li hai ora prendiamo mentre i costi variabili nella colonna destra sono quei costi che avvino il momento in cui vado a erogare o vendere il tuo prodotto allora se io ho una casa in Airbnb ho ovviamente il se la casa è aperta avrò un contratto con elettricità e gas e la parte fissa che tra l'altro è quella più alta in questo momento ahimè sono i prezzi sono schizzati alle stelle io devo calcolarlo come costo fisso ecco l'ho una quota fissa annuale che se lo ho la notte piena o le giornate piene io pago lo stesso ora ipotizziamo che io vado a inserire 400 euro di costo fisso queste sono ovviamente cifre buttate lama per darvi un'idea in modo particolare voi potete farlo in maniera più precisa cominciate quello che vi consiglio a fare almeno i costi ipotetici magari anche un po più alti eventualmente ma cominciate a ragionare in termini di costi fissi poi se io ho un contratto internet che è attivo e oggi sono i costi mensili può essere 25 35 euro mese io avrò un costo annuo che o ci sei o non ci sei di 360 400 euro all'anno di internet ce li ho poi se tu hai una casa avrai costi sostanzialmente se in casa singola avrai tasse rifiuti ce le hai se sei in un condominio le spese condominali ce le hai lo stesso calcoliamo un costo di 1200 euro io ho un costo fisso affitto o non affitto di quanto di circa 2000 euro per 1960 allora la domanda è che è fondamentale per voi imprenditori chiunque va a fare l'imprenditore colui che fa un'impresa se sei oggi vai su airbnb diventi un piccolo imprenditore perché sai vendendo che cosa la tua il tuo appartamento un tuo bene grazie a airbnb che sicuramente o booking quello che tu vuoi dicono io devo recuperare 2000 euro domanda in quanti notti io riesco a recuperare il costo la domanda di un negozio è quanti prodotti devo vendere per pagare il costo fisso cosa che prezzo di scontrino meglio avere ogni giorno per pagare il mio ecosistema e in quanti giorni io lo pagherò sono queste le domande che mi pongo prima di fare le campagne di facebook o di linkedin arrivano tutti questi a fare campagna non sanno una merita mazza dei costi fissi o variabili ovviamente se ho una casa avrò dei costi variabili se io ho dei costi di per fare le pulizie in casa costo per notte quant'è per esempio in airbnb ricordatevi che il costo delle pulizie è indipendente dal numero di notti perché è in fondo posso fare sette notti e avere ma chi va dovevo calcolare quel costo anche se lo fate voi perché se no non ragioniamo mai più in termini imprenditoriali anche se lo fai tu quanto ti costa ogni notte fare due ore prendi il costo medio di una donna che viene lì fa esempio che ti costa un'ora e beh fai due notte gli fai pagare 10 euro a notte quello è il tuo costo variabile 10 euro poi avrai la quota variabile delle bollette elettricità io ho messo 4 euro 4 5 euro come costo variabile a notte a notte ok quello può essere una quota che tu vada imputare come costo variabile poi abbiamo le commissioni di airbnb e airbnb si fa pagare ok per quanto riguarda gli ost cioè coloro che vendono la che offrono sul mercato le case siamo intorno tra il 3 e il 5 per cento dipende dalle impostazioni dei price dei prezzi su airbnb poi hai l'acedolare secca il 21 per cento che devi pagare a come tasse a se scegli il pagamento in questo caso non lato irpe ma lato con in questo caso sul costo cioè sul fatturato che tu ottieni attraverso la vendita del tuo appartamento o casa io poi a un certo punto vado a determinare in maniera fare una stima di quanto potrei io vendere quella casa a un prezzo è ovvio che la stima la puoi determinare guardando gli appartamenti della tua zona e capire qual è il prezzo medio di vendita ok poi se tu vuoi tenere un po più alto un po meno alto dipenderà da una serie di caratteristiche del tuo appartamento che airbnb poi calcola già perché va a stimare anche se non vi consiglio molto di guardare le stime perché sono un po ogni tanto adminchiam così dicono gli esperti di airbnb allora se io ho 90 euro che è il prezzo per notte per determinare il quanto mi rimane in saccoccia cioè chiamato margine di contribuzione io l'ho segnato come mdc ok che è l'unico valore che vi interessa perché sono i soldi che vi rimangono in tasca non è mai fatturato ma è quello che rimane in tasca dal venduto meno i costi che sono costi fissi e costi variabili ok con la mdc dato da 90 euro meno 10 euro di pulizie costo per notte ovviamente le bollette commissione di 4 euro che è che sarebbe il 4 per il 4 per cento di airbnb più l'accellulare secca che sono 19 euro a me rimangono in tasca 53 euro domanda e adesso è la domanda delle domandone quanti soldi quante notti mi servono per ripagare i costi fissi farò esattamente 1960 fratto 53 e ottengo che devo fare quel rotondato di 36 qualcosa solo 37 notti io 37 notti devo avere occupato la mia casa ok per almeno 37 notti per avere il pagamento dei costi fissi cioè da lì in poi comincio dalla trentottesima notte comincio a guadagnare allora qui abbiamo capito che prima di mettere in piedi qualunque business piccolo grande che sia io devo sapere quanto quanti mesi o quanti giorni ci impiego con quelle tariffe con quei margini a pagarmi i costi fissi che è il primo obiettivo break even poi se io non ho fatto questo non venite a far consulenza a farvi vendere facebook ads tutte quelle cose che non perché sono costi aggiuntivi perché potrei anche mettere qua una quota di costo fisso ripartito nell'anno sapendo che io spendo in facebook e tengo una quota fissa di 100 euro faccio 100 diviso mese per 30 e ci metto la quota per notte di facebook perché no diventerebbe una se lo andate meglio trasformare quei costi in costi fissi lo metto qua con il mio 960 può anche aumentare ok se ci metto 100 euro come costo fisso sono tecniche che tecnicamente le vedremo magari un po più avanti però detto questo io so che ci impiego 6 mesi 7 mesi a quei prezzi poi domanda successiva è quel prezzo è vendibile nel mio mercato se tengo se io do quel tipo di servizio o riesco a giustificare quel prezzo più alto perché ho altri servizi o do altro due punto di domanda questo entra in marketing per sostenere la parte economica del mio progetto ok tornando ho semplificato tutto questo l'ho voluto fare per darvi un'idea sostanzialmente di quello che è il business perché si lavora in questi termini una volta che io ho messo su carta anche in maniera approssimativa ma ce l'ho perché contro non avere niente un conto avere già qualcosa io so che ci impiego tre mesi quattro mesi cinque mesi per arrivare al break even point se non ho questi dati non fate niente ok non andate a chiedere nessuna campagna e vi ricordo che molte volte alla domanda qual è il tuo margine di contribuzione non sanno esattamente cosa fare e questo è importante perché determina i giorni o il fatturato che vi serve per determinare c'è un'altra formula che costi fissi fratto maglia di contribuzione e determina il fatturato che la vostra azienda deve fare per sanzialmente per ripagarsi esattamente dei costi fissi e io devo avere focus lì all'inizio il mio focus è lì pagarmi tutto in modo tale da non andare mai e mai in perdita che è il primo obiettivo principale per adesso vi ringrazio da matteo barberi io qua sotto vi ho messo un link che trovate nel poi quando andrò a pubblicare il video sui vari canali social dove potete chiedere tranquillamente un'analisi del vostro business e del vostro stato attuale del marketing è un semplice sondaggio lo mandate lo compilate lo guardo personalmente io ok e vi risponderò con due tre diciamo elementi che possono aiutare il vostro business a crescere grazie da matteo barberi e per adesso buona giornata a tutti voi